Nella città dei templi dal prossimo 29 marzo il parcheggio ex cirio di competenza comunale sarà a pagamento. Infatti è stato istituito un parcheggio a pagamento senza la custodia del veicolo. Detta area di sosta sarà regolamentata con biglietto prepagato tramite parcometro automatico e gratta e sosta che dovrà essere esposto ben visibile all'interno del veicolo. L'ordinanza è valida dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni feriali e festivi. Il parcheggio ha due ingressi su via Magna Grecia. Le tariffe sono le seguenti. Per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori bisognerà pagare 0,50 centesimi di euro ogni ora o frazione, mentre per autobus, minibus, autocari, caravan e simili il costo sarà di 2,50 centesimi per ogni ora o frazione. L'area di sosta sarà interessata inoltre dalla collocazione di apposita segnaletica.